Benvenuti a Pokémon Notizie Vi volevamo dire una cosa Allora oggi non sarà a lungo Non ci sono tantissime notizie Ma poche, proprio poche Allora vi diciamo che fino al 29 a McDonald's Ci sono ancora i Pokémon Manca poco E per cui cominciate a fare tutta la vostra squadra A prendermi, a dare il McDonald's A mangiare, a prendere con l'Happy Meal i Pokémon Bene Poi un'altra novità di Pokémon Go Pokémon Go da ora Dopo che è uscito il Pokémon Go Plus Da ora si può anche usare l'Apple Watch Non sarà ugualissimo Però potete usare l'Apple Watch Da ieri è stato aggiornato alla versione nuova E per cui potrete usare l'Apple Watch Bene E' il Natale tanto Ma ora andiamo a dare la linea a Peter Sapete chi è Peter? Bene Diamo la parola a Peter Perché ha voglia di anche lui Di tantissime notizie Dirvi una notizia Benvenuti tutti quanti a Pokémon Notizie Allora vi volevo dire una grossissima notizia Intanto vi volevo fare tantissimi auguri a tutti voi Auguri di un buon e felice Natale e un anno nuovo Ma adesso vi volevo dire una notizia Per cui partiamo subito con la grande notizia Andiamo con la grande notizia Volevo dirvi che Ai negozi di videogiochi E' arrivato i tre manga Di Pokémon I tre manga E poi Vi volevo dire un'altra cosa Che Con Pokémon Go L'evento di Natale Arriva un'altra novità L'altra novità E' che Quando andrete in un Pokestop Potrete avere Un'incubratrice E' un uovo Il primo giorno Un uovo Per trovare Togipil E altri Beh Bellissime queste notizie Mi piacciono Ho studiato tanto Per vedere queste cose Perciò Speriamo Che vi siano di aiuto E Grazie E Vi volevo dire Buona Natale A Tutti Ok Vi è piaciuto Vi è piaciuto molto Peter E' stato bravissimo Beh Speriamo che il prossimo anno Ci saranno tante novità Noi Vi diciamo Che ci vediamo Sabato prossimo Con altre novità Di Poche buone notizie E poi Nel prossimo anno 2017 Faremo dei gameplay Perché adesso Poco poco Ma poi dopo Faremo gameplay Sfide Con altri allenatori Dove noi Faremo sfide Contro altri Di tutto il mondo Online E Bene Ci vediamo Sabato prossimo Allenatori E buon Natale A tutti Buon Natale Buon Natale Un felice anno nuovo A tutti voi Ci vediamo sabato prossimo Acchiappateli Tutti Ciao 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 Ciao